Una discarica in quello che è uno dei posti più belli delle Marche, ma secondo me anche più belli dell'Italia. È una situazione assurda. È un videomessaggio disdegno quello che Francesco Emilio Borrelli posta dalla collina di Riceci destinata a diventare maxidiscarica. Il deputato di Alleanza Verde e Sinistra ha effettuato ieri il sopralluogo nella collina di Petriano sulla quale è stata avviata un'interrogazione parlamentare volta a fare trasparenza sull'iter procedurale che assegnerebbe la realizzazione dell'impianto di smaltimento di rifiuti ad Aurora SRL, società col 60% di quote della San Marinese Ecosistemi e il 40% di Marche Multiservizi. Un sopralluogo sostenuto dall'ex consigliere regionale Gianluca Carraps da comitati e da comunità petrianesi che reputano quanto mai sbagliato trasformare in discarica lo stesso luogo che nel 2009 fu scelto come spot promozionale per le Marche con l'attore hollywoodiano Dustin Hoffman. Abbiate il coraggio di chiamare Dustin Hoffman e fate fare la promozione delle Marche sulla discarica perché dobbiamo avere pure il coraggio di essere coerenti. Se noi riteniamo che Dustin Hoffman ha venduto un pacco al mondo e agli italiani facendo un giro su un posto brutto che voi ritenete di dover trasformare la discarica dovete avere il coraggio di cambiare quello spot. Oggi il caso Riceci è stato affrontato anche da uno degli amministratori spesso tirato in ballo nella vicenda. Giuseppe Paolini, presidente della provincia, ospite negli studi di Rossini TV per l'approfondimento nel format Amministrando. La discarica di Riceci. Io sono stato tirato in ballo tante volte, a torto, sotto certi aspetti e oggi ne approfitto per dire quello che ne penso. C'è una normativa regionale che dice che le discariche di rifiuti speciali non pericolosi debbano stare a 2000 metri dai centri abitati. Su quella cosa io vado avanti? Su quella normativa la provincia sta andando avanti? Dopodiché noi dobbiamo dare un'autorizzazione. Un'autorizzazione che però deve essere validata dalla regione. Io dico che i 2000 metri non ci sono, la discarica secondo me il parere che darà la provincia sarà un parere negativo, a meno che in regione non cambino e abbassino questo percorso. Personalmente cosa ne penso? Personalmente penso che il luogo è sbagliato, personalmente penso che ci siano una serie di problemi che andavano affrontati anche con la gente del posto, ma io ho la certezza di dirti che noi ce lo siamo ritrovati in provincia, questo progetto ce lo siamo ritrovati, con persone che si erano mosse in anticipo, con persone che si erano mosse in anticipo ed è la tipica situazione in cui molti lanciano il sasso e poi nascondono la mano e quanto cade il sasso i cerchi si allargano e tu devi cercare di fermare questi cerchi e fare in modo che l'acqua ritorni chietta. Io non uscirò dicendo una cosa o l'altra, io dico la provincia agirà nel massimo rigore e nel massimo rispetto delle leggi, però se lì è arrivata una società di San Marino vuol dire che qualcuno ce l'ha portato.